ciao ragazzi sono simon88 e bentornati sul canale oggi faremo un nuovo video della street fighter collection edita da agostini se vi siete persi le prime due parti vi ricordo di andarle a prendere nella mia playlist e guardare il video questa è la terza parte non l'ho potuta fare tutto insieme perché sarò sarebbe venuto un video troppo lungo e l'ho diviso in parti quindi ragazzi l'ultima cosa che voglio aggiungere è che mi piace che voi appreziate questi video e che mi piace mostrarvi quello che io colleziono quindi dai supportatemi e ricordatevi sempre di lasciare un like un'iscrizione perché l'iscrizione per me è importantissima mi fa capire che adorate questi tipi di video quindi adesso senza perderci in chiacchiere perché mi sono dilucato anche fin troppo andiamo al video allora ragazzi eccoci tornati con questa collezione ce l'avamo fermati al numero 21 riprendiamo con la 22esima uscita che questo è il fascicolo e questa è Mirka r.mirka guardate qua questa è Mirka guardate qua la sua bellezza guardate qua le sue code ve le mostro velocemente perché ve le voglio fare vedere il più possibile e dopo come sempre faremo una bellissima panoramica e li vedremo tutti insieme sotto ricordo che c'è sempre il nome e questa era la 22esima uscita guardate che bella anche qua è pompata guardate qua e questa era la 22esima uscita r.mirka andiamo alla 23 makoto questa è la numero 23 e questa è la statuetta guardate che bella la faccia ci siamo la faccia ci siamo questa è kamoto in come le altre sotto abbiamo sempre il nome e questa è kamoto la 23 noi andiamo alla 24 che è kobi il prigioniero vi ricordo se vi siete persi gli altri due video della prima e seconda parte potete recuperarli nella mia playlist questa è kobi guardate qua guardate qua le catene il suo vestito le sue scarpe la faccia si ci siamo e guardate qua devo dire che questa è una collezione che mi sta piacendo molto e la sto facendo tutta perché siamo ancora in corsa in edicola a farla io vi mostro fin dove sono arrivato questa era kobi passiamo alla numero 25 i cubi no scusate i buchi i buchi questa è la numero 25 sotto il nome e questa è i buchi guardate che bella guardate qua la sua coda questa è il retro dopo faremo una bellissima panoramica e li vedremo tutti insieme guardate che bella ci sta mi piace anche questa passiamo al numero 26 che è gen il vecchietto guardate qua che bella con il suo segno che punta in alto guardate qua gli occhi non sono disegnati perché è così proprio fatta questa è la sua barba le sue scarpe guardate dietro come bellissimo anche questa sotto il nome e questo è gen poi abbiamo la numero 27 si vai per la donna guardate che bella anche questa molto stupenda guardate la sua coda passa tra il braccio come lunga stupenda questo è il retro le sue scarpe con i tacchi guardate che bella qui hanno messo un pezzo di plastica per fargli tenere sulla gamba e guardate che bella la sua faccia con gli occhiali ragazzi è una collezione che a me mi sta piacendo tantissimo se volete potete recuperarle su prima edicola o sennò dire al vostro edicolante di recuperarle io vi consiglio di farla tutta perché a me mi sta veramente piacendo questa collezione adesso passiamo al numero 28 e abbiamo qua gunkenking e eccolo qua il vecchietto questa è abbastanza possente grossa guardate qua la sua coda dietro qua il suo cinturone qua che è tipo una è secondo me è una corda la faccia ci siamo la cicatrice sulla testa la mano ci siamo i piedi dai ci siamo e il vestito anche non possiamo lamentarci di questa figure che è bellissima passiamo alla numero 29 poison un'altra donna questa è poison guardate che bella stupenda guardate qua i suoi capelli possenti guardate qua grossi tutti appuntigliosi i suoi tacchi poi qua le sue manette la sua faccia ci siamo poi qua c'è il suo bastone e questa era la numero 29 di poison andiamo alla 30 doodling doodle questa è doodle la 30 guardate qua che bella anche questa con la sua giacca guardate qua il movimento che la tiene sulla spalla guardate le piegature della spalla i dettagli sono proprio questi le piegature le piegature del vestito anche in queste piccole cose si vedono i dettagli poi guardate i pantaloni anche qua le tutte le piegature i muscoli qua i guantoni con la sua rosa in mano questa è la sua faccia e anche questa è una bellissima figura passiamo al numero 31 questa è un'altra bellissima edilryu che anche questa è stupenda scusate edilryu guardate qua che bella stupenda wow questa è molto bella guardate che bella questa è dal davanti gli hanno disegnato il buco nel petto è solo disegnato comunque molto bello poi gli hanno fatto gli occhi rossi i suoi guantoni e dietro la cicatrice anche questa è disegnata molto bella e questa è la edilryu passiamo alla 32 che è anche questa bellissima ed è oni guardate qua gli occhi infuocati i suoi pettorali guardate come sono scolpiti bene sotto vi ricordo sempre il nome che c'è in tutte le figure dietro è così col suo vestito guardate qua i dettagli della schiena con tutti i muscoli anche dietro qua guardate che bella i pantaloni e guardate qua bellissima allora ragazzi noi ci fermiamo qua non me ne mostro altre se no il video verrebbe troppo lungo adesso faremo una bellissima panoramica e le guardiamo tutte insieme allora ragazzi eccole qua tutte insieme guardate che belle dietro abbiamo Kobi e tutte le altre guardate qua che stupende questa collezione è veramente una figata perché a me mi sta piacendo mi sta piacendo tantissimo e poi vederle tutte insieme anche alle altre che vi ho mostrato fanno veramente tanto è davvero una bellissima collezione ragazzi se della siete persa io vi ricordo che potete sempre ordinarle su prima edicola andando su google e scrivere prima edicola e street fighter e potete ordinarle se no in edicola dal vostro edicolante richiederle comunque ragazzi non voglio prolungarmi ancora di più perché sennò il video diventa lungo e quindi io vi saluto e ci sarà una quarta parte perché vi voglio mostrare quelle rimanenti quindi ragazzi da simon88 è tutto vi ricordo sempre di lasciare un like un mi piace e un iscrizione mi raccomando non dimenticate l'iscrizione perché è molto importante quindi vi saluto ciao ciao da simon88 e io con questa inquadratura vi saluto in un prossimo video